La Xtreme è un dream, è un sogno, è pazzesca. Prima non scalavo tanto bene sul ghiaccio così, però adesso con quella picca mi sembra facilissimo scalare sul ghiaccio. Sono Matteo Rivadossi, vado in montagna da una trentina d'anni, dividendomi tra grotte, la mia grande passione, e scalata anche su ghiaccio. Progettando la piccozza Xtreme, non solo ho pensato al massimo del rendimento nell'utilizzo su tutti i tipi di terreni. In Cassin abbiamo cercato le tecnologie produttive per esaltare proprio questo attrezzo, che al di là della sua semplicità utilizza il massimo, in termini proprio di qualità e di sicurezza, e di innovazione, nella realizzazione proprio dei particolari. La lama in acciaio al cromoli deno tagliata laser, testa e raccordi realizzati con una forgia a caldo, il tubo in erga all'estruso, e l'impugnatura sovrastampata, nella quale alloggia un'anima in erga tagliata d'acqua. La caratteristica principale di questa piccozza è il fatto che ha una geometria variabile, data dall'impugnatura che è reclinabile, un'impugnatura brevettata che ci consente di passare dalle geometrie del ghiaccio, più aperte, più adatte alla battuta, a quelle più chiuse, che servono per la scalata in dry tooling, per le sospensioni, quindi anche per le gambe. Questa impugnatura consente una presa estremamente naturale e personalizzabile. attraverso la scelta di alcuni particolari, come il separatore del dito indice, che può essere cambiato a piacimento. E possiamo aggiungere addirittura un appoggio inferiore, proprio per adattarla alla propria mano e al proprio stile di scalata. Grazie!